Ciao a tutti bentornati sono Serra vi mostro come sbloccare il trofeo delle scarpe in Watchdog 2 in stile vediamo sulla mappa il negozio che si chiama vicino al barcadero center Plain Stock ora ci entriamo e compriamo quelle maledette scarpe togiti brutta vacca andiamo qui nel negozio andiamo nelle scarpe sbagliato e sono questi compriamole e sbloccheremo il trofeo delle scarpe ecco vedete a posto grazie a tutti per aver visto il video spolliciate guardatevi nelle mie playlist e i miei social in descrizione e tutto quello che volete ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti